Ciao ragazzi, di nuovo bentrovati a tutti voi, io sono Manno e questo è il bar del calcio. Cari amici, benvenuti a tutti voi, vi rubo dieci secondi solo per ricordarvi che è in vendita il mio ultimo libro, la mia ultima opera, Fuggire per rinascere, chi è interessato all'acquisto di questo libro è facilissimo, c'è una copertura nazionale di circa il 90%, lo trovate anche in librerie minori, ma il posto più veloce e più rapido per acquistarlo è Amazon, lo store della Mondatori, lo store della Fertrinelli, oppure in alternativa, per scoprire tutte le altre modalità di vendita, vi basta andare su Google, digitare Fuggire per rinascere di Manuel Manconi e vi direrà fuori tutte le opzioni di acquisto per questo libro. Chiaramente ragazzi, chi lo compra, mi faccia sapere cosa ne pensa, perché per me le recensioni e i vostri giudizi sono sempre molto importanti. Un saluto a tutti, ciao! Ben trovati ragazzi, ben trovati a tutti voi. Vi ricordo velocemente che in descrizione trovate tutte le informazioni riguardanti il nostro canale, dai social dei quali parliamo poco colpevolmente, comunque andate a leggere perché trovate tutto, Facebook, Instagram, Twitter, trovate davvero tutto. Ma adesso è arrivato il momento, un momento atteso, per me è sempre un appuntamento, è sempre un qualche cosa di molto atteso questo appuntamento qua. E quindi sto parlando assolutamente del nostro fantacalcio. Andiamo a calcolare la giornata, perché? Perché oggi non si gioca posticipo, non si gioca posticipo ragazzi. Quindi andiamo a vedere esattamente quello che è successo tutti quanti insieme. Ebbene ragazzi, andiamo quindi innanzitutto come sempre a vedere, a dare un'occhiata alla classifica alle prime dieci posizioni. Conovetto Di Pasqua che comanda con 167 punti, seguito a 159 da Team Massimo. Terzo posto per AC Parma con 157 punti. Eagles 1900, 156 punti. Tifosetta Ardita, 152 punti. New Team al sesto posto con 150 punti. Al settimo e ottavo posto la coppia composta da Riva lo squadrone X Asded. Al nono posto lo Sporting Seven e al decimo posto proprio la mia squadra con 122 punti. Andiamo a dare un'occhiata chiaramente a quello che potrebbe essere successo in questa giornata. Sperando di avere delle buone indicazioni per quanto mi riguarda. Andiamo un attimino a vedere quindi il calendario. Ed ecco la mia formazione. Vediamo un pochino. Allora abbiamo Sommer che ha preso 6 di Pagella, porta in battuta 7. Angelino un ottimo 6,5. Gatti 5, vi dico la verità ma ho detto pure bene perché Gatti davvero poteva anche essere espulso. Biraghi che ha preso un 6 in Pagella con cartellino giallo 5,5. Ghendosi il solito 6. Abbiamo il gol di Pulisic ragazzi. 7,5. Più assist e più gol totale 11,5. Decatelare fare il suo 6,5. E Politano 5,5. Blauvic 7, più gol 10. Retequi 6. Martínez, Lautaro Martínez 7, più gol. Attenzione anche al fatto che è il capitano. Quindi 10 punti totali. Devo dire la verità è andata abbastanza bene. Vediamo se ho qualche rammarico a giocare. Mi hanno giocato tutti. C'è il 6 di Traoré. C'è il 6 di Traoré del Napoli che in qualche modo avrei potuto mettere al posto di Politano. Ma non ci pensavo proprio. Quindi comunque questa diciamo che è la mia formazione giusta. Il primo difensore era Marusic che ha preso 4,5 al posto dei Gatti. Quindi questa secondo me era la formazione ideale, giusta, che ho schierato. Andiamo a calcolare la giornata per vedere cosa è successo. Andiamo quindi a calcolare la giornata, ragazzi. Un attimo solo. La connessione è quella che è. Giornata da calcolare. Eccola qui. Venticinquesima. Calcola ora. Ok. Giornata calcolata. Andiamo adesso a vedere i risultati. Allora, venticinquesima giornata. Venticinque punti per Dinamo Losca. Venti punti per il Tetenam. Andiamo con le altre squadre. Abbiamo il FC Blackpool. Diciotto punti. Partizan Degrado. Diciasette punti. Poi, ASND Never Joy. Se ne prende 16. Gambero Rosso se ne prende 15. Poi abbiamo AC Picchia. 15 punti anch'esso. Prosecco. 13 punti. Poi abbiamo Borussia Porkmund. 12 punti come l'Atletico, ma non troppo. Poi abbiamo Buchi Neri che si prende a 10 punti. Accidenti 9 punti. Mai una gioia. 9 punti. Stessa cosa per il Deportivo. Scusate perché non si vedono tutti i nomi completi. 6 punti per Mascherin. AC Parma 6 punti. Importanti questi che prende AC Parma. Poi FC Scoregina 4 punti. 3 punti per Tifosetta Ardita. Anche i suoi sono importanti. Ne prende 3 anche Ovetto di Pasqua. 3 anche Eagles 1900. E basta. Non vado a punti neanche stasettimana. 91 punti presi dall'ultimo ragazzi. Pensate un po'. L'ultimo ha fatto 91 punti. 91 punti. L'ultimo ad averli presi. Eagles 1900. Vediamo un po' io quanti ne ho fatti. Andata male pure stasettimana ragazzi. Anche arriva lo squadrone. Sto vedendo non è andato bene. Ragazzi male male male. Quanti ne ho fatti? 86 ragazzi. 5 punti in meno sono troppo 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 pochi rispetto ai 91 dei giocatori che sono andati a punti. Delle squadre che sono andati a punti questa settimana. Peccato. Devo dire la verità peccato. Andiamo a vedere quindi. Andiamo a dare un'occhiata alla classifica. Chiaramente non vi ho detto che quella che state vedendo è la versione PC del calcolo. Giornata. Vi dico la verità. Prefisco sempre quella del telefonino. Andiamo a vedere quindi la nuova classifica con Ovetto di Pasqua. Ancora al comando con 170 punti. Seguito a 163 da Ciparma. Ma a 159. Eagles 1900 e Team Massimo. Tifo se è tardita. Rimane lì con 155 punti. Sta sempre aggrappata ai posti che contano. 150 per New Team. Arriva lo squadrone. 137 insieme a Xaseded. 124 punti per Sporting 7. E per la seconda settimana consecutiva. Nonostante non ho preso punti. Rimango nella top 10. Mi sta di bene. Bisogna dire la verità. Mi sta dicendo molto bene. All'undicesimo Palermo con 121 punti. Al dodicesimo posto Dina Molusca con 119. Al tredicesimo posto Maina Gioia con 118. Al quattordicesimo posto ASL Chris con 117 punti. Stessi punti anche per il quindicesimo posto occupato da Accidenti. Al sedicesimo posto Gambero Rosso United. Al diciassettesimo Peppe. Al diciottesimo posto Fabio decimo Meridio. Al diciannovesimo posto e al ventesimo posto con 90 punti ciascuno. A Cipicchia e Daston Birra. Vado a farmi una corsetta giù in basso a vedere anche l'ultimo. Attenti a camata. 8 punti. Mi sa tanto che questa è proprio una provocazione. Questo attenti a camata. Per quanto mi riguarda una minaccia. Perché è un giocatore che in posto vedevo. Dico sinceramente. Quindi comunque questo è quanto accaduto in questa giornata di Fanta Calcio. Fatemi sapere nei commenti. Mettete innanzitutto un bel mi piace. Condividete. Invitate amici ai quali può piacere questo gioco. Ma soprattutto fatemi sapere nei miei commenti come è andata la vostra squadra. E che aspettative avete da qui al termine della stagione. Da Manuel e da Bardecalcio è tutto. Mi mando un caro abbraccio. Ciao a tutti.